Dopo l'appello lanciato dal procuratore capo di Campobasso Nicola D'Angelo sul tema del contrasto al dilagare del fenomeno droga, è intervenuto il presidente dell'ordine degli psicologi del Molise, Nicola Malorni. Dura la sua presa di posizione che mette sotto accusa i decisori politici e dirigenziali della nostra regione, scrive in una nota, che hanno bandito la prevenzione e la promozione del benessere dalle politiche sanitarie e sociali che non investono in progettualità a lungo termine o nella stabilizzazione della psicologia nei nostri servizi. Un intervento tutto all'attacco, quello di Malorni, che pone l'accento sul tema della prevenzione, un aspetto a suo dire trascurato dalle istituzioni spesso protagoniste di progetti usa e getta che non portano da nessuna parte. La risposta da offrire, secondo Malorni, è quella di interventi di carattere strutturale e multidisciplinare, interventi di sistema e non sporadici capaci di coinvolgere un'intera filiera della quale facciano parte ordini professionali, istituzioni, scuola, terzo settore, ambiti sociali, chiesa e famiglie. All'appello del procuratore D'Angelo, scrive sempre Malorni, abbiamo il dovere di rispondere con proposte di interventi psicologici, sociali ed educativi in grado nel medio lungo termine di generare trasformazioni profonde e durature. Sul fronte della lotta alla droga arriva anche la presa di posizione di Conf Cooperative Molise. L'organizzazione pone anch'essa l'accento sulla prevenzione, sollecitando l'intervento delle forze dell'ordine davanti agli istituti scolastici al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio. Accanto a questo tuttavia occorre altro come ad esempio rilanciare la cultura del lavoro e determinare condizioni che consentano a chi ne è privo di poter avere una opportunità. Non possiamo che ripartire dal lavoro, scrivono. Per fronteggiare il mostro della droga subito, immediatamente, bisogna finanziare la legge regionale numero 16 del 2009 di sostegno alla cooperazione come d'altronde il presidente Toma aveva promesso di fare in campagna elettorale. Questa è la richiesta di Conf Cooperative.